Oggi è di sicuro 12 novembre località Iginepri Iginepri e qui è bello arrivarci in bicicletta scusami ma d'estate viene la gente qua che meraviglia ma questo fa parte del comune di Nostro? Sì Ah ok Ciao Meraviglia 12 novembre secondo me è una meraviglia il peccato non si veda no è troppo c'è foschia e non si vede stromboli adesso faccio come le youtuber il mare d'inverno laggiù c'è pizza da quelle parti lì mentre in quella conca laggiù in quella conca laggiù sempre con la nuvola fantoziana che è quella c'è il posto dove vivo io oddio che che aria e perché non mi avevano mai parlato di questo posto? che meraviglia trilla è visto il mare d'inverno bellissimo ecco perché voglio la macchina adesso non oggi ma andrò a provare sentite il rumore delle onde bello ci vedeva il pastone è il sole che lui ci queda look of the day non posso mettere i piedi dentro che colore ma qui è bagnato oddio di schiavo i miei amici sono a passeggiare c'è questo coso per questa specie di marciapiede lungomare proprio non era conoscenza in questo posto con le palme ma che strano trilla adesso qui ti metto la terra libera senza quintaglio piccola che sei amore sembra un moscerino un moscerino e lì ci sono degli altri cani potessi arrivare qua 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 farà un giudice potessi arrivare qua non prodotti finiti amore libero chiamala chiamala perché con anna maria una passione non è abituata a stare lontana da me picciona aia grazie aiaia e no guarda prendi o prendilo tu che sei più alto e no grandi così devono essere tenuti al guinzaglio io scusami e volevo farvi vedere l'aereo non ci spaventava a